... Sei un angelo, pezzino. E tu il diavolo. Scemo. Facciamoci una dormita, garzoni. La scena è finita. Era durata anche troppo. Comunque, avevo scaricato la pistola. Legala bene. Devo farlo proprio io. Fa presto. Obedisco. Avanti, con le spalle a terra. Fermo. Questo è un corso accelerato. Sta zitto, sbrigati. Ok. Ciao. Altri ordini? Senti qui. Perri, un po' di serietà. Più di così. Questa è la combinazione della cassaforte. Senti gli scatti. Gli scatti. Gli senti? Altro che se li sento. Smetti. Ti sembra che sia questo il momento di... Hai ragione. Che ore sono? Giusto in tempo. Senti, non ti muovere. Io faccio subito. Ma dove vai? Stai attenta, eh. Che cosa fai? Guarda. Voilà. Su, sveglia. Sveglia. Scusa, sai. Non ti spaventare. È un trucco che ho imparato in Cina. Te ne parlerò un giorno. Non ti spaventare. 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 Non ti spaventare.